Allora, iniziamo questa quarta lezione di Power Yoga, giro il telefono, ecco, abbiamo il cavalletto che fa i dispetti, andiamo sul tappetino, allora, iniziamo dal bordo del tappetino, siamo più o meno lontani da 20 cm dal inizio del tappetino, dal nostro bordo, i piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche e le mani sono lungo i nostri fianchi. Chiudiamo gli occhi e facciamo un bel respiro. Per tutta la pratica vi ricordo di inspirare e respirare sempre col naso e ora cercate di focalizzare tutta la vostra attenzione solo sul respiro, di allontanare tutti i pensieri dalla vostra mente e so che non è semplice farlo, ci vuole ancora una pratica. Se improvvisamente vi rendete conto che durante tutta la pratica state iniziando a pensare a qualcos'altro, a qualcosa che è successo durante la giornata o qualcosa che dovrà accadere dopo la pratica, gentilmente cercate di spostare il pensiero, di allontanarlo dalla vostra mente e di ritornare a concentrarvi sul vostro respiro e su quello che state facendo. Ora apro gli occhi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, espirando porto le mani sulle ginocchia, piego le gambe, inspiro, almeno la colonna, guardo davanti a me, espiro, curvo la schiena, guardo in direzione del palmerico, inspiro, riallino la colonna, espiro, piego le braccia, avvicinando a me il petto alle cosce, i gobi sono aperti verso l'esterno, e ora inspiro, riallino la colonna, espiro, curvo, e inspiro, riallino, ora inspiro, piego le braccia, avvicino il petto alle cosce e appoggio le mani ai lati dei piedi, e ora inspiro, andiamo la colonna avanti, guardo davanti a me, e inspiro, andiamo nella posizione del gatto, ora inspiro, in angola schiena, guardo verso l'alto, espiro, curvo la schiena, guardo in direzione del palmerico, e inspiro, ed espiro, inspiro, espiro, e ora, spiro, e ora, porto avanti le mani, mantenendo il bacino allineato dai ginocchi, avvicino il petto e la fronte sul tappetino, ora per chi un po' più sciolto, che ha un po' più di mobilità, può provare a portare le mani sul collo, in modo da spingere ancora di più il petto verso il tappetino, ora inspiro, appoggio le mani sul tappetino e ritrovo nella posizione del gatto, puntiamo le vite dei piedi sul tappetino, e ora, espiro, spingo il bacino verso l'alto, le gambe sono ancora piegate, cane a faccia in giù, faccia in grado, i piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche, risucchio l'alto, l'alto verso la colonna e spingo il bacino verso il soffitto, ora, inspiro, piego ancora di più le gambe, espirando, stendo entrambe le ginocchia e spingo i talloni verso il tappetino, inspiro, piego, espiro, stendo, inspiro, ed espiro. Manteniamo le gambe completamente tese, quindi siamo in cana faccia in giù, i talloni spingono verso il tappetino, lo sguardo, e verso l'omelico, ora, piegate a giro, occhio destro, e staccate il tallone da terra, andando quindi sulla mezza punta, e spiro, stendo, e appoggio il tallone alla terra, inspiro, piego la gamba sinistra, vado in mezza punta, espiro, spingo giù, ripeto, ancora una volta, con il piede destro, e spiro, stendo, e la gamba sinistra, adesso, vado con tutte le gambe, inspiro, piego, e andiamo in mezza punta, e spiro, stendo, le gambe spingo dall'universo del tappetino, ripeto ancora una volta, e spiro, adesso andiamo solo in mezza punta, tenendo sempre tese le gambe, e spiro, schiaccio, inspiro, salgo su, e spiro, premo verso il basso, ora, inspiro, sollevo la mezza punta, vado in mezza punta, spingo il bacino giù verso il tappetino, e andiamo nella posizione del piegamento, stringete bene i glutei e con trete l'addome, e ora, espiro, spingo il bacino verso l'alto, e torno a cara faccia in giù, inspiro, mezza punta, spingo il bacino in avanti, posiziono il piegamento, espiro, spingo il bacino verso l'alto, cara faccia in giù, e per l'ultima volta, mezza punta, inspiro, posiziono il piegamento, e ora, espiro, scendo giù, piegamento, le gambe sono completamente tese, il collo del piede appoggiato a terra, le ginocchia ben tese, scivolo in avanti con le mani, e appoggio l'avombraccio, i gomiti a terra, e la fronte, da qua, inspiro, lavoro solo con la muscolatura delle schiena, sollevo le spalle e la fronte dal tappetino, e espirando, scendo giù, inspiro, ed espiro, e l'ultimo modo, inspiro, e espiro, scivolo indietro con le mani, sono vicino al petto, salto un po' più in su, senza stendere ancora completamente le braccia, e scendo, inspiro, su, ed espiro, scendo giù, e ora per l'ultima volta, l'appoggio sarà solo sul palmi delle mani e sul collo del piede, stacchiamo il bacino terra, stendiamo completamente le braccia, e inspiro, cara faccia in su, non sforzate troppo il bacino spingendolo verso il basso, altrimenti vi verrà un po' i padri al tratto lombare, sguardo verso l'alto, e ora espiro, piego le gambe e porto il bacino indietro, e mi siedo sui palloni, posizione balasa, io ora mi inspiro, ritorno alla posizione del gatto, puntiamo le dita sul tappetino, e espiro, spingo il bacino verso l'alto, cara faccia in su, ricordatevi sempre, che la posizione del balasa, quindi la posizione del bambino, è la vostra posizione di salvezza, se durante la pratica non riuscite più a resistere, e non riuscite più a tenere, quindi il cala faccia in giù, ora inspiro, piego le gambe e guardo avanti, con due passi, porto i piedi in mezzo alle mani, gambe unite, piedi uniti, inspiro, all'ina roma colonna, guardo avanti, e espiro, punta rasa, e ora inspiro, perno all'anca, salgo su, porto i bracciano verso l'alto, e espiro, salvo a siti, inspiro, espiro, perno all'anca, scendo, inspiro, all'ina roma, guardo avanti, con due passi, porto i piedi indietro, e vado nella posizione del piegamento, espiro, piegamento, e ora inspiro, cala faccia in su, espiro, balasa, mi vado a sedere sui talloni, e ora inspiro, posizione dell'alto, punto di dita sul tappetino, e espiro, cala faccia in giù, ricordate di allontanare le spalle dai loghi, sguardo verso l'ubilico, e ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con due passi, porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, all'ina roma, e espiro, punta rasa, e ora inspiro, perno all'anca, salvo su, porto le braccia verso l'alto, e espiro, salvo a siti, sui e la maschera, quindi saluto al sole, inspiro, espiro, perno all'anca, scendo giù, inspiro, all'ina roma, e espiro, due passi indietro, e c'è il duranga, piegamento, inspiro, cala faccia in su, subito, rollo sul collo del piede, cala faccia in giù, e ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti, due passi, porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, all'ina roma, e espiro, uta nasana, e ora inspiro, perno all'anca, salvo su, e espiro, salvo a siti, ora nella fase dell'andata, ma anche di ritorno, provate se volete a fare un balzo, inspiro, espiro, perno all'anca, scendo, inspiro, all'ina roma, inspiro, balzo, e piegamento, inspiro, cala faccia in su, e espiro, cala faccia in giù, piegamento, guardo avanti, con un balzo, porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, all'ina roma, e espiro, uta nasana, inspiro, perno all'anca, salvo su, un po' tra le braccia verso l'alto, e espiro, salvo a siti, inspiro, espiro, scendo, inspiro, allina la colonna, espiro, balzo, e inizio ad un'anca, inspiro, cala faccia in su, e espiro, parlo sul colonna del piede, cala faccia in giù, e ora inspiro, piego le gambe, espirando, ritorniamo nella posizione del gatto, ora inspiro, sollevo la gamba destra, espiro, curvo la schiena, porto il ginocchio verso la fronte e curvo la schiena, e inspiro, e stendo, muovo indietro il piede a martello, inspiro, curvo, inspiro, stendo, curvo la schiena, ora inspiro, stendo la gamba, appoggio il piede a terra, ruoto il corpo, appoggio la pietra del piede destro a terra, stendo il braccio destro verso l'alto, ed espiro, allungo il braccio destro in avanti, solitamente la difficoltà, provate a sollevare la gamba destra, tutto il corpo deve essere in me, e ora inspiro, appoggio il piede a terra, allungo il braccio su, inspiro, andiamo nella posizione del piegamento, e espiro, cioturanga, inspiro, cala faccia in su, espiro, rollo sul colo del piede, cala faccia in giù, e ora inspiro, piego le gambe, espirando andiamo nella posizione del gatto, inspiro, sollevo la gamba sinistra qui da martello, e espiro, curvo, e porto il ginocchio verso la fronte, e inspiro, stendo indietro, e espiro, curvo, inspiro, stendo, e espiro, e inspiro. Ora, inspiro, accoggio il piede a terra, appoggio nella piazza del piede, ruovo tutto il corpo, stendo il braccio sinistro su, e espiro, prolungo avanti, se volete aumentare la difficoltà, come prima, sollevate la gamba sinistra, tutto il corpo deve essere però in linea, sguardo sempre verso l'alto, io respiro, allungo il braccio verso l'alto, appoggio la pianta del piede a terra, e ora andiamo nella posizione del piegamento, e cioturanga, ora, e espiro, e inspiro, cani faccio in su, e espiro, provo sul colo del piede, che la faccio in giù. Ora, inspiro, piegoliamo, guardo avanti, con un balzo, porto e piedi in mezzo alle mani, allineo la colonna, e inspiro, e espiro, puto a nasa, e ora, e inspiro, perno all'alto, salgo su, unisco le mani in preghiera, e piego le gambe, vado in torsione, mi raccomando, cercate di spingere il più possibile il bacino verso il basso, e di ruotare le spalle, bene, guardate verso l'alto, e ora, inspiro, salgo su, e cambiamo il moto. inspiro, ritorno, su, e espiro, salastichi, inspiro, porto su le braccia, espiro, per l'alto, scendo giù, inspiro, libero la colonna, espiro, avvanzo, e c'è un'alto, inspiro, cala faccio in su, espiro, cala faccio in giù, ora, inspirando, sollevo la gamba destra verso l'alto, e ora, e espiro, faccio un grande passo, avanti, col piede destro, e porto in mezzo alle mani, ora, appoggio i ginocchi, e appoggio il collo del piede a terra, in inspiro, sollevo il busto, porto le braccia verso l'alto, affondo uno, aprite bene il petto verso l'alto, sguardo verso l'alto, con le braccia dovete formare una B, controllate bene il vostro corpo, guardate l'alto, avvassate le spalle, allontanatele dai lobi, il ginocchio allineato alla caviglia, e pesa al centro e sul bacino, e ora, espiro, porto entrambe le mani verso l'interno del piede, da qua, allunghiamo, porto l'alto destro sul ginocchio, cerco di aprire il più possibile, ma senza muovere la piazza del piede, non esagerate nello sforzare, adesso ritorno, in base alla vostra elasticità, potete decidere di mantenere le mani qua, o altrimenti di portare le mani un po' più avanti, e provare ad appoggiare i comiti a terra, e ora appoggio il nuovo le mani, riporto il piede in mezzo alle mani, e ora, apri il braccio destro indietro, e la dintorsione, lo sguardo sempre segue il movimento della mano, e ora ritorno, sollevo entrambe le braccia su verso l'alto, unisco le mani in preghiera, e vado in torsione, se volete aumentare la difficoltà, puntate le dita del piede sinistro sul tappetino, e sennete il ginocchio, e adesso, appoggiate il ginocchio, appoggiate il collo del piede, ritorno a deposizione, e l'acqua, vado in una posizione di piegamento, e espiro, piegamento, inspiro, cane faccio in su, ed espiro, rollo sul collo del piede, cane faccio in su, ora, inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, piede a martello, e espiro con un grande passo, porto il piede sinistro in mezzo alle mani, appoggio le ginocchia, appoggio il collo del piede aperto, e inspiro, affondo uno, appoggio le ginocchia, e spiro, appoggio le ginocchia, e appoggio le ginocchia, e appoggio le ginocchia, sulle ginocchia, cerco di aprire, un po' l'anca, senza sforzare troppo, e tenete sempre, la piazza dei piedi, appoggio la terra, e ritorno, in base alla vostra mobilità, alla vostra elasticità, potete mantenere le mani, qua, altrimenti le parate un po' più avanti, e appoggiate i gotti, se non riuscite ancora a appoggiare i gomiti, non preoccupatevi, non andate in ansia, e se è una questione di pratica, di allenarsi, arriverà anche qui, ora ritorno sulle mani, e abbo il braccio, sinistra e indietro, ritorno, porto il piede in mezzo alle mani, e ora, inspiro, braccio su, unisca il parma delle mani, in posizione di preghiera, e vado in torsione, se volete aumentare la difficoltà, puntate, venite nel piede destro, sul tappetino, e assennete il ginocchio, mantenete bene la torsione, ora appoggio il ginocchio, appoggio il colo del piede, appoggio le mani, e ora, ritrovo nella posizione del piegamento, e c'è un'altra, inspiro, canna faccia in su, e espiro, canna faccia in su, e adesso, inspiro, piede alle gambe, con un balzo, porto il piede in mezzo alle mani, e espiro, allino la colonna, e espiro, un'altra, e ora, inspiro, fermo la lacca, salgo su, e espiro, salgo su, ora, voi rimanete, verso, dove siete già in posizione, e mi giro verso di voi, almeno così potete vedere meglio, da qua, solleviamo, la gamba sinistra, destra, e portiamo, il ginocchio, al petto, ricordatevi, di non inarcare la schiena, ma anzi, di spingere, il ginocchio, verso il petto, adesso, avete le opzioni, come nei suoi fianchi, e tenete la gamba tesa, in avanti, col piede martello, o altrimenti, con l'indice annuce, afferrate, l'annuce, e apro l'erba di lato, fissate un punto davanti a voi, non guardate verso il basso, il mento è alto, e ora da qua, riportate il ginocchio al petto, e chiudo, samasiti, andiamo dall'altro lato, stacco il piede da terra, sollevo, e tenete due ginocchia al petto, e adesso, ho la prima brillante, quindi, puntita assa, gamba tesa, piede martello, e mani sui fianchi, o altrimenti, con l'indice medio, afferrate l'erba di lato, e aprite la gamba di lato, fissate un punto, concentratemi sulla vostra respirazione, cercate di mantenerla regolare, nonostante la fatica, e ora, raccolgo il ginocchio, lo riporto al petto, e ispiro, samasiti, adesso, saluto il sole, B, e quindi, in automatico, andremo a fare, Gurghia Ruma, vediamo se, vi ricordate, dalle scorse lezioni, inspiro, unisco i palmi, e vado in utkatasana, quindi, posizione della sedia, e, spiro, stendo, e, perno all'anca, scendo giù, inspiro, avvio la colonna, e, spiro, balzo, e, inizio, l'anca, inspiro, carapaccia in su, e, spiro, rollo sul collo del piede, carapaccia in giù, ora, inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, espiro, un passo in avanti, appoggio la piazza al piede sinistra a terra, sollevo le braccia, il busto, Guerrero 1, e ora, espiro, accoggio i palmi delle mani a terra, ritorno in posizione di prendimento, e, espiro, chaturanga, inspiro, carapaccia in su, ed espiro, carapaccia in su, ora, inspiro, piano le gambe, guardo avanti, con un balzo, oltre via, mezza le mani, inspiro, all'ira colonna, e, espiro, utanasana, e ora, inspiro, perno all'anca, salgo su, unisco i palmi delle mani, e, utkatasana, e, inspiro, e, espiro, sanasiti, andiamo dall'altro lato, inspiro, utkatasana, espiro, stengo, e, perno all'anca, scendo giù, inspiro, allino alla colonna, espiro, balzo, e, piegamento, inspiro, canapaccia in su, e, espiro, canapaccia in su, e ora, inspiro, sollevo la gamba, sinistra verso l'alto, piede martello, e, espiro, un passo in avanti, apro la punta del piede destro, salgo su, guerriero una, e, ora, inspiro, appoggio le mani sul tappetino, ritrovo in una posizione di piegamento, e, espiro, chaturana, inspiro, canapaccia in su, e, espiro, canapaccia in giù, e ora, piego le gamba, guardo avanti, con un balzo, porto piedi in mezzo alle mani, e, inspiro allino alla colonna, e, espiro, utanasana, e ora, inspiro, perno all'anca, in tre, unisco i palmi delle mani, utkatasana, e ora, inspiro, e, espiro, siamo stati, bravissime, adesso, aggiungiamo, guerriero due, inspiro, inspiro, perno all'anca, scegli giù, inspiro, alline alla colonna, espiro, balzo, e, piegamento, inspiro, canapaccia in su, espiro, canapaccia in giù, inspiro, sollevo la gamba destra, gamba tesa, piede a martello, e faccio un grande passo avanti, salgo su, e, guerriero due, e ora, inspiro, ruoto il busto, apri il braccio di lato, guerriero due, inspiro, allungo, la schiena in avanti, il busto in avanti, appoggio la mano verso l'interno della gamba, allungo il braccio sinistro verso l'alto, e poi in avanti, sguardo verso l'alto, e ora, inspiro, ritorno, scivolo indietro, porto il panno della mano destra verso l'alto, e scivolo indietro con il braccio, guerriero rovesciato, e ora, inspiro, ritorno in guerriero due, sento la gamba destra, scivolo le mani avanti, appoggiamo la mano sulla caviglia, uta nasa, uta nasa, ora, appoggio, le mani ai lati dei piedi, ruoto la gamba, sinistra, e cerchiamo di portare la fronte e il naso, verso il ginocchio, mantenendo la schiena dritta, quindi non curvate, allungate, in primis, si va a appoggiare il ventre, e poi tutto il resto del corpo, e adesso, apri il braccio destro verso l'alto, sguardo, seguo la mano destra, triangolo rovesciato, e spiro, ritorno in triconasana, quindi nella posizione del triangolo, e ora inspiro, guerriero due, ruotiamo completamente il corpo, andiamo nella posizione del piegamento, e chaturanga, inspiro, kanapachi in su, e spiro, kanapachi in giù, inspiro, pieghiamo le gambe, portiamo la mano, con un balzo, portiamo i piedi in mezzo alle mani, inspiro, vieni nella colonna, e espiro, uta la nasa, e ora, prendo la manca, salgo su, e espiro, salgo a sito, andiamo dall'altro lato, inspiro, espiro, per la manca, scendo giù, inspiro, vieni nella colonna, e espiro, balzo, e giù, andiamo, inspiro, canapachi in su, e espiro, rollo sul colo del piede, canapachi in giù, ora, inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, il piede martello, e con un gare basso davanti, ruoto il piede destro, inspiro, guerriero, e ora, respiro, ruoto, riposto, apri il braccio di lato, guerriero e due, sguardo alla mano sinistra, scivolo in avanti, appoggio la mano verso l'interno della gamba, e allungo il braccio destro in avanti, sguardo verso l'alto, ora, inspiro, ritorno, panno della mano sinistra verso l'alto, scivolo indietro, appoggio la mano sul polpaccio, sul ginocchio, e allungo il braccio sinistro indietro, inspiro, torno al guerriero due, stendo la gamba, sinistra, scivolo in avanti col busso, appoggio la mano sulla caviglia, trikonasana, e ora, appoggio le mani a terra, ai lati del piede, e ruoto la gamba destra, e ora, allineate la paloma, e spiando, avviciniamo, il ginocchio e il naso verso, la gamba, ricordatevi, in primis si deve appoggiare il ventre, e poi tutto il resto del corpo, e ora, apro il braccio, sinistro verso l'alto, lo sguardo segue la mano, triangolo rovesciato, e ora, respiro, e ritorno al triconasana, e inspiro, ritorno al guerriero due, ruotiamo completamente il corpo, andiamo nella posizione del piegamento, e espiro il piegamento, e ora, inspirare, e applicare il gamo, guardare la mano, come un balzo, porto, che vedi in mezzo alle mani, inspiro, allineo la colonna, e espiro, utenale, e ora, inspiro, per la manca salvo su, e espiro, si appassi, inspira, espira per una cascetta, inspira lì nella corona, espira, balzo e piegamento, inspira, cara faccio in su, espira, cara faccio in su, ora chiedo le gambe, con il balzo scendiamo il sedere, segniamo le gambe avanti, inda l'asera, mani vicino al bacino, da qua inspira, solleva le braccia, afferriamo con indice medio, diamoci, inspira, allina la colonna, espira, piego le braccia, i gomiti sono aperti verso l'esterno e avvicino il petto alle cosce. Inspira, allina la colonna, appoggiamo il palmo della mano sulla pezza dei piedi, inspira, allina la colonna, espira, piego le braccia, vicino il petto alle cosce. E ora inspira, allina la colonna, provate a interciare le dita tra loro e portare il palmo delle mani indietro, dietro i piedi, sulla piastra dei piedi, inspira, espira, vicino al più possibile. Inspira, inspira, allina la colonna e espira, e siamo in mandato. Adesso ci insediamo sui talloni e solleviamo il bacino, portiamo le mani sul tratto lombare, le ginocchi devono essere leggermente diversate tra di loro, tanto quanto le vostre anche. porto le mani sul tratto lombare senza spingere il bacino avanti, ma anzi, inspiro, allungo la colonna e apro bene il petto. Se siete abbastanza mobile, avete la schiena abbastanza sciolta, afferrate le caviglie. e ora riporto le mani sul tratto lombare e ritorno. ci insediamo sui palloni e allunghiamo il balasana. ora portiamo l'abbraccio finestra sotto, l'abbraccio destro. inspiro, l'abbraccio destro sotto il braccio sinistro. inspiro, torno, riporto sul busto e ora ci andiamo al sedere incrociando le gambe. prendete una posizione comoda, portate le mani sulle ginocchia, controllate la vostra respirazione. ora magari un po' più affannata in base al lavoro che abbiamo fatto. cercate di controllarla, di rendere ogni respiro più lungo e aiutatevi chiedendo anche gli occhi. respiro, respiro sempre dal naso e mi godo questi ultimi momenti per me. sento che ogni volta ogni ispirazione è sempre più lunga. la stessa cosa per ogni ispirazione. sento che ogni muscolo del mio corpo si rilassa. e cerco di abbandonare la mente, di liberarla da ogni pensiero, così come abbiamo fatto all'inizio e come abbiamo provato a cercare di fare per tutta la pratica. anche in questo caso. se vi rendete conto che qualsiasi pensiero appare nella vostra mente, gentilmente, cercate di allontanarlo. ci sarà poi tempo dopo. e ora cerco di di far ritornare alla mia respirazione normale. quindi di risvegliare lentamente tutto il mio corpo. e lentamente riapro gli occhi. e anche per oggi ciò è un fatto. ciò è un fatto. è un fatto. ciò è un fatto. ciò è un fatto.